Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qua Adesso Routrack Simulator 2 Ora continuiamo il viaggio Ok, abbiamo lasciato chiari sera Spero che il video vi piaccia E continuiamo il viaggio Via Pronti Vai che si parte Mocchiamo l'autostrada E via, e via Tutto gas, tutto gas Vediamo se sono accesi i fari Vediamo anche questa perché se non ho vedo niente Ecco, cosa è meglio Andiamo a manetta come al solito Vediamo la freccia Dobbiamo uscire Qui si esce Leggermente incastrati La Fermiamoci Diamo la precedenza Qui viene un bagno, un furgone Di qua non viene nessuno Via, che si parte Eccoci qua Siamo arrivati a Malmo Non so che il paese è Comunque siamo arrivati qui Poi c'è San Mauro Poi si riparte Dai Emoide, su Che miseria Dai cammina Che c'ho fretta Ah, forte giro a qua vai 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 sorpassone la grande sorpassone la grande 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 andiamo andiamo facciamo un bel vincetto ops ops ammazza che cazzo di cosa qui a notare che le città sono fatte abbastanza bene diciamo la buia non ci passiamo lì la buia sono fatte abbastanza bene adesso usciamo qui per andare a prendere l'autostrada in teoria che bello passa il treno ok sinceramente ho capito se questo è il treno bene le passano quello quello però qui si fa pagare quindi probabilmente questo non è il treno pazienza l'importante è che separa mettiamo in manietta innanzitutto va tutto gas adesso ci facciamo quel bruticino Sì, no? Ammazza, andiamo a 160 e vediamo a 90 leggermente fuori limite leggermente passione a destra attenzione andavo troppo veloce, non potevo fermarmi andiamo sempre sparati a mille anche perchè il viaggio è ben lunghetto quindi andando più veloce per risparmiare il tempo andiamo 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 ce la faremmo a soppassare questo furgoncino ammazza quando cammina una vai 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 sorpassone sorpassone vabbè ci passa anche il treno ma vediamo se incontriamo un treno vediamo vediamo non si vede ancora niente tanto i nostri autisti fanno lo lavoro andiamo a manetta incuranti del pericolo anzi sprezzate non si vede ancora Impostati, devo passare io. Grande sorpassione. Grazie a tutti. Sempre a tavoletta. Adesso come troveremo un distributore? Ci fermeremo. A cavolo è andato a fuoco un camion. Ci fermeremo e riposeremo. Faremo riposerare il nostro pilota. E poi ci saluteremo. Ci vedremo in un prossimo video. Ecco, siamo quasi arrivati a destrazione. Andiamo a mettere la benzina. Prima il tutto. Non vedo se mai. Però rimanere senza. Abbiamo un po' di ore. Facciamo il pieno. Andiamo a mettere l'asservatoio. Ma il salmio fa tutto. Allora ci siamo. Visto che ci stiamo facciamo tutto, no? Servizio è concreto. Beh, via. Ci stiamo. Facciamo una bella pellichella. Eccoci qua di nuovo. Pronti per ripartire. Io ragazzi vi saluto. Grazie di aver visto questo video. Continuate a iscrivervi. A mettere like. Se vi piace. Continuerò a fare questi video. Altrimenti cambierò il gioco. Anche se ho tentazione di fare altri generi. Tipo Dailite e il signor Renelli della Lego. Poi potrò sapere. Grazie a tutti. Iscrivetevi ai vari collegamenti che troverete qui sotto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.